Bisogna cercare di capire che anche le prossime due partite saranno durissime senza Manolo Ricci ancora una volta perché prenderà la qualifica sicuramente dovremo forse in queste prossime due partite provare a sviluppare un'attitudine al combattimento perché effettivamente non sono solo dei limiti tecnici a farci ritrovare in questa situazione ma anche proprio la voglia di lottare in difesa soprattutto nei duelli, cercare di vincerli per cui il candidato ci dà ancora la possibilità della salvezza perché poi è fatto su più livelli la possibilità di salvarsi dobbiamo non adembrimerci, continuare a lottare e cercare nelle partite anche di recuperare dei giocatori importanti come Zanon e Medicina che in questo torneo è forse la prima volta che giocano da protagonisti dopo dei lunghi infortuni e hanno bisogno di tanti minuti di mettersi proprio alla prova.